Buonasera da Matteo Mero e bentornati ad Autorità Granata. Importante passo avanti verso la ricostruzione dello Stadio Filadelfia, Casa del Toro e dei tifosi Granata. Infatti oggi è arrivato il CRO, codice riferimento operazione del versamento del primo milione di euro, naturalmente della cifra completa di 3 milioni e mezzo, da parte del Comune di Torino nelle casse della Fondazione Filadelfia. Perciò nelle casse della Fondazione Filadelfia arrivano i primi soldi stanziati negli accordi che, ricordiamo, sono stati fatti col Comune, con il Torino FC e con la Regione. Il prossimo passo sarà ricevere i soldi da parte della Fondazione Mamma Cairo e dunque da parte del Torino FC. Naturalmente è stato annunciato euforicamente da Domenico Beccaria proprio su Facebook, che naturalmente nel post si augura che i soldi del Torino arrivino il prima possibile per non ritardare ulteriormente i leader verso la ricostruzione del Filadelfia. Numerose le interviste rilasciate oggi da personaggi del mondo Granata o che orbitano intorno al mondo Granata. Il primo di questi è Andrea D'Amico, agente FIFA e anche curatore degli interessi di Riccardo Meggiorini, che a riguardo del suo assistito ha dichiarato Riccardo sta giocando una stagione importante col Toro, lavora molto per la squadra. Resta in campo la possibilità di un rinnovo di contratto, senza il quale l'ex Bari, Bologna, Genoa e Novara partirebbe da svincolato nella stagione 2014-2015. Cesare Bovo, a poche giornate dalla fine del campionato, a Sky ha commentato La corsa all'Europa League, siamo lì e cerchiamo di migliorare partita dopo partita. A fine stagione faremo i conti, ce la giocheremo fino alla fine. Oltre a Bovo ha parlato anche il suo compagno di reparto e anche ex compagno di squadra al Genoa e attuale compagno di squadra al Torino, Emiliano Moretti, che, ricordiamo, è una delle rivelazioni della stagione del Torino. Ai microfoni di Sky Sport ha affermato Tabella europea? Abbiamo sempre pensato tirare fuori il massimo in ogni prestazione ed è la strada giusta da perseguire. Non credo che sia giusto cambiare adesso il nostro modo di approcciarci alle partite. Insomma, senza calcoli, si va lontani. Apriamo la nutrita pagina di Calcio Mercato. Continua a ronzare nelle orecchie del direttivo Granata il nome di Maxi Rodriguez. Ricordiamo che non ci stiamo riferendo al giocatore ex Liverpool e Real Madrid, anzi, attuale giocatore del Real Madrid, ma bensì al trequartista 23enne in forza al Gremio. Sarebbe che sarebbe tuttora un obiettivo di forte portata per la dirigenza del Torino. Se sondato anche da Fiorentina a Generazio, il giocatore non munito di doppio passaporto europeo è legato al Club Verde e Oro fino a maggio 2017. tuttavia una strada nettamente più percorribile quella che porta a Panagiotiscone, trequartista del Bologna e secondo tutto Sport e Sky Sport primo obiettivo per la trequarte Granata del prossimo anno. Infatti Ventura avrebbe individuato in lui il giocatore che riassumerebbe al massimo tutte le caratteristiche che cerca l'allenatore Granata per il trequartista barra fantasista nel prossimo 3-4-1-2 che il prossimo anno andrà a schierare in maniera fissa in campionato. Naturalmente la trattativa appare fattibile anche per le cifre, naturalmente legato molto al destino del Bologna di quest'anno in campionato. Ricordiamo che il Bologna è il quartultimo in questo momento e virtualmente salvo tuttavia mancano ancora 5 giornate e i verdetti del campo sono ancora lontani dall'essere decisi. Termina così l'edizione odierna di Attualità Granata a condotto Matteo Maero. Da Radio Granata un auguri di una buona serata e di buona continuazione.